ragazzi voglio farvi vedere un tool incredibile su bybit vedete questo 3 gpt ok è gratuito possiamo fare trading sulle cripto su bybit con l'aiuto di questo tool ok è un tool a cui possiamo chiedere dove investire vedete qua ci dice anche la miglior popular comings però gli possiamo proprio chiedere abbiamo diciamo credo 20 domande al mese io ne ho già fatte 4 e praticamente attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale e mixato poi a tutte le informazioni che bybit ha sul mondo cripto questo tool ci restituisce un'analisi su dove poter investire sapete che cia gpt per esempio non fa questo tipo di operazioni se chiedete a cia gpt dove investire soldi vi risponde non posso fare analisi non posso fare consigli di investimento bybit ha utilizzato quella tecnologia mixandola con tutto il suo know how tutte le sue conoscenze essendo un exchange tra i principali del settore cripto e quindi ha creato questo tool a cui noi possiamo chiedere una mano per fare trading e io gli avevo chiesto di segnalarmi una cripto su cui fare trading in modo profittevole nei prossimi giorni e lui mi ha consigliato questa razz adesso vi faccio vedere se non avete un account su bybit per utilizzare questo tool gratuito basta andare su bybit iscrivetevi con il mio link se non siete ancora iscritti così avete fino a 30 mila dollari di bonus in base a varie operazioni che fate sul primo deposito e mille mille sui volumi potete arrivare fino a 30 mila dollari di bonus quindi utilizzate il mio link lo trovate in descrizione iscrivetevi a bybit dopodiché è semplicissimo iscrivervi comunque descrizione trovate anche tutti i miei tutorial su bybit come creare l'account su come fare trading fare copy trading era una piattaforma incredibile che io utilizzo e adesso chiediamoli per esempio dimmi una cripto da tradare che possa farmi fare profitto nei prossimi giorni e lui ci fa tutta un'analisi ok scusate allora in questo caso me ne è andata un'altra prima mi aveva dato razz ed effettivamente ha avuto diciamo una una candela lunga ma adesso vediamo quest'altra che mi ha detto helium ok hnt vediamo se c'è nel mercato spot possiamo dare direttamente da qui trade spot trading e vedere se c'è nel mercato spot altrimenti andiamo nel mercato dei derivati ok c'è scusate eccola qua quindi possiamo decidere di investire qualcosa nel mercato spot a lungo termine qui ci ha fatto vabbè ora è andato via però lui ci fa tutta l'analisi e ci spiega perché ok quindi contestualizza diciamo la sua risposta noi possiamo poi comprare a mercato vediamo se ho qualcosa no va bene comunque bisogna mettere gli usdt ok per acquistare trovate tutti i tutorial e in descrizione se non conoscete barit se non siete iscritti e volete utilizzare questo tool iscrivetevi con il mio link perché avete fino a 30 mila dollari di bonus quindi io potrei creare un portafoglio un piccolo portafoglio di investimento ovviamente non sono consigli finanziari ragazzi fate le vostre dovute ricerche vi faccio solo vedere io condivido la mia esperienza nel cercare di guadagnare online ma ovviamente con il trading come cripto se non siete formati se non avete diciamo minima conoscenza di questo settore dovete studiare altrimenti rischiate di farvi male quindi fate le vostre ricerche poi per tutti quelli che vogliono sfruttare questo tool molto intelligente basta molto interessante scusate basta andare su by bit poi tool e poi 3 gpt e fare delle domande e poi investire volendo potete fare anche trading sui derivati ma credo no ho sbagliato andando qui su derivati e poi use dt perpetual andiamo sui perpetual qui possiamo usare la leva e cerchiamo cerchiamo questo hnt possiamo mettere leva 10 fino a leva 12 in questo caso però magari mettiamo leva 5 per voler fare un'operazione adesso leva 4 azione leva 12 conferma e potremmo andare long ok però ecco io credo che lo utilizzerò per fare diciamo un trading spot e quindi magari acquistare delle cripto li potremmo anche chiedere un'altra cosa gli possiamo chiedere un'altra cosa per esempio possiamo chiedergli anche di prepararci un portafoglio di investimento a lungo termine quindi magari gli chiediamo dimmi una lista di 10 cripto che performeranno al massimo nella prossima burrà e lui magari mi fa un elenco mi fa tutta l'analisi e mi dice razz questo vino hnt fed btc et h solana fan qui ed ecco che ho creato un portafoglio vado nel mercato spot ne compro un po magari metto 100 dollari su ognuna di questa e ho preso i miei mille i miei mille dollari magari la prossima burrana diventeranno interessanti quindi potete utilizzarlo per fare trading per farvi delle fargli delle domande delle integrazioni potete chiedergli appunto anche delle operazioni non potete chiedergli fa dimmi un'operazione di trading su eterium darmi un prezzo d'ingresso da dammi lo stop loss dammi il take profit e lui vi dà proprio l'operazione ok è molto interessante per fare trading per fare analisi per creare portafogli investimento molto molto interessante andate su buy bit link in descrizione se non siete iscritti fatevi l'account con il mio link così avete fino a 30 mila dollari di bonus poi andate su tool è semplicissimo gratuito cliccate su trade gpt e potete praticamente utilizzare l'intelligenza artificiale per fare trading ovviamente non sono consigli finanziari fate le vostre dovute ricerche considerazioni non sono solente finanziaria tutti i link sono in descrizione anche nei miei video su buy bit i miei tutorial se è la prima volta che sentite questo exchange fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao